tante illazioni anche in relazione ad un rapporto di collaborazione di breve durata e modico compenso instaurato da mia figlia con altra... La relazione della dirigente Corsello è una vera e propria difesa su tutta la linea. Durante il suo intervento ripercorre le tappe del piano giovani e soprattutto l'affidamento alla società ETT al centro delle polemiche. La Corsello che nei giorni scorsi ha presentato le dimissioni respinge di vedersi attribuite tutte le responsabilità. Non ci sto ad essere sbattute in prima pagina come un mostro, ha detto, rivendicando di avere agito sempre nell'interesse della pubblica amministrazione e dell'assessore Scilabra. Secondo il dirigente lo stesso esponente del governo ha voluto accelerare con il piano giovani pur in presenza di condizioni che la Corsello ha descritto come non ottimali, criticando il click day e la gara di velocità, così la definisce voluta dall'assessore. Per quanto riguarda le critiche sul nuovo bando sui tirocini del 18 agosto, la Corsello si è difesa sottolineando di avere tenuto al corrente dei vari passaggi sia gli assessori che il presidente della regione. Desidero essere giudicata per ciò che ho fatto e non per ciò che qualcuno ha tentato di addebitare, mi ha concluso la dirigente definendo quello che è accaduto una pagina di storia di raro squallore. Il processo politico sul fallimento delle selezioni del piano giovani si è tenuto nella quinta commissione che si è riunita in maniera straordinaria data la lunga pausa estiva dell'Ars. La riunione è stata trasmessa in streaming su richiesta dei deputati del Movimento 5 Stelle. Sono atti gestionali dove io non mi sono mai inserita. Quando io il 5 agosto diciamo si verifica purtroppo quello che sappiamo. Dopo la Corsello è intervenuta l'assessore Scilabra parlando di illazioni nella relazione della dirigente definendolo un racconto parziale sotto certi aspetti inesatto. Politicamente mi prendo le responsabilità e allo stesso tempo politicamente dico che il piano giovani non è ancora crollato ha detto la Scilabra. Era un tassello per avviare una nuova fase. Poi si è rivolta direttamente ai deputati della quinta commissione. Io ho 30 anni e voi governate da 30 anni. Potevate farlo prima voi il piano giovani. A seguire l'intervento dell'assessore Bruno sul bando firmato il 18 agosto dalla dirigente parlando di una scelta della Corsello che andava oltre la discrezionalità del ruolo. A seguire sono intervenuti i componenti della commissione. Il confronto è stato sospeso per alcuni minuti dopo un lieve malore del presidente Marcello Greco. La commissione si riunirà di nuovo mercoledì alle 11 per continuare a discutere del piano giovani. Intanto secondo ambienti vicini alla procura e magistrati di Palermo che hanno aperto un'inchiesta sulla gestione del piano acquisiranno la relazione presentata oggi in audizione dalla Corsello. La dirigente ricoprirà il ruolo sino a quando la giunta regionale non deciderà sulle dimissioni presentate nei giorni scorsi. La questione dovrebbe essere affrontata nella prima riunione dell'esecutivo.